Il robot chirurgico a disposizione dell'ortopedia del San Bassiano è al centro di roventi polemiche in questi giorni dopo la decisione dell'US7 di chiudere il periodo d'uso per terminare la sperimentazione cui era sottoposta l'attrezzatura utilizzata dall'equipe del dottor Giovanni Grano. I pazienti non l'hanno presa bene, soprattutto quelli che erano in attesa di un'operazione proprio con il robot Mako Striker, ma l'USP de Montana ci fa sapere che non sono certo i pazienti a decidere del futuro delle apparecchiature. Si legge però in una nota diffusa dall'azienda sanitaria che nei prossimi mesi saranno valutati i risultati raggiunti e in base a questi l'eventuale opportunità di utilizzare questa tecnologia in pianta stabile. E non è tutto, la nota ufficiale dell'US7 dice anche che la direzione sta attendendo dal primario di ortopedia una relazione sull'efficacia dell'utilizzo del robot, sull'attività di formazione svolta per il suo utilizzo e sui costi benefici evidenziati dalla sperimentazione. Prima di valutare eventuali prosecuzioni nell'utilizzo del robot, si legge nel comunicato, tali informazioni devono necessariamente essere trasmesse al CRITE, la commissione regionale che si occupa di investimenti in tecnologia. Tutto bene, quindi? Non resta che aspettare dati e carte e poi si vedrà. Peccato che il 5 luglio scorso l'azienda sanitaria abbia scritto alla ditta fornitrice del robot di provvedere immediatamente al ritiro del sistema Mako Striker senza tanti preamboli. Eccolo il documento con il protocollo e il riferimento temporale di qualche mese fa. E non è tutto neanche in questo caso perché già il 28 dicembre scorso in una riunione dei vertici dell'US7 il direttore generale Carlo Bramezza ordinava di non utilizzare più il Mako Striker a partire dall'aprile scorso. La disposizione è averbale e il motivo è presto detto per Bramezza prevede un costo più alto di dispositivi e protesi. Quindi secondo i documenti era già tutto deciso e il futuro del robot chirurgico in uso all'ortopedia è segnato.